C'è da dire, noi in quel momento stavamo soffrendo molto, anche per quello avevamo fatto la scelta di cambiare qualcosa, perché stavamo soffrendo, loro avevano preso in mano la partita, noi avevamo commesso troppi errori, si vede che la squadra era intimorita, con un po' di paura, avevamo sbagliato qualche appoggio e avevamo deciso di cambiare. Insomma è chiaro che l'espulsione di Conti è stata importante, avrebbero potuto paraggiare noi, abbiamo fatto quella mossa per cercare di coprirci, convinti che le cose potessero migliorare, però non abbiamo la controprova, poi Conti si è fatto buttare fuori, le cose sono migliorate di per sé, giocando 11 contro 10. Non ci fa piacere, però la situazione è questa, intanto i pochi tifosi che ci sono stati, che c'erano questa sera allo stadio, ci sono stati vicini, questo è molto importante, hanno capito che il momento non era dei più semplici, lo hanno fatto con i cori fino alla fine, nonostante la squadra non fosse una conseguenza del gioco espresso in questa serata. E questo per noi è stato importante, ripartiamo dal fatto di aver segnato a San Siro dopo che non era stato fatto per tre partite, che non abbiamo preso gol e che abbiamo portato a casa tre punti, che finalmente a San Siro abbiamo vinto tra noi e l'Inter, se è successo, qualcosa magari cambierà.